Ci troviamo nel ventunesimo secolo. Il mondo è in uno stato di degrado. Man mano che passano gli anni, la quantità di inquinamento prodotto da fabbriche e da macchine sta degenerando e nessuno sembra importarsi del nostro futuro. Un uomo albero, però, è pronto a battersi contro il male per salvaguardare il nostro pianeta. Ma cosa sta succedendo là? La mia foresta. Sta andando a fuoco. Devo intervenire immediatamente. Ehi tu! Cosa stai facendo? Stai zitto, stupido albero. Chi se ne frega del mondo tra qualche anno muoio per cui per me può anche andare in malora. A me importa. Smettila di distruggere tutto. Perché dovrei? Adesso ti faccio vedere io. Stai zitto, stai zitto. 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 Grazie a tutti.